Aveva passato la serata sulle giostre di questo Luna Park itinerante che adesso gli operai stanno smontando dopo le giornate trascorse davanti al lungomare di Paola in occasione dei festeggiamenti per San Francesco. Il piccolo Marco, tre anni, tornava a casa, seduto sul lato passeggero di una Smart guidata dal padre Daniele Maio, quando per cause ancora in corso di accertamento la vettura è sbandata, finendo dritta contro un guardrail lungo il rettilineo che dal vione Sant'Agata conduce verso Fuscaldo. L'impatto ha avuto conseguenze devastanti, mentre l'uomo è rimasto pressoché illeso e il bimbo ha perso la vita. A nulla è servita la corsa in ospedale, immediata da parte di alcuni familiari che viaggiavano su un altro veicolo immediatamente alle spalle di quello coinvolto nell'impatto. Toccherà agli agenti del commissariato di Paola e ai carabinieri della locale compagnia accertare la dinamica dei fatti. Comprensibile, la disperazione dei genitori è quella di una comunità già provata da un'altra drammatica notizia che aveva funestato la domenica, quella del decesso di Alex, un neonato di tre mesi, colpito dalla sindrome della morte in culla. Salvatore Bruno per la Cineus24.